buongiorno a tutti volevo farvi un breve video di annuncio tra virgolette perché l'autunno si avvicina e abbiamo deciso di organizzare un'altra gita a milano per chi ha già partecipato sa già più o meno come funziona per chi non ha mai partecipato ci troviamo il 6 di ottobre che un sabato a milano e solitamente ci si trova in tarda mattinata ma più avanti poi daremo dettagli maggiori per ora diciamo che abbiamo deciso la data così chi vuole partecipare inizia a farsi un po due programmi e la giornata è libera nel senso che decidiamo mano mano dove andare a milano ci sono tanti negozi ci sono tanti posti dove si può stare e quindi poi decideremo più o meno al momento sempre che la partecipazione non sia ingente quindi all'ultimo incontro abbiamo prenotato il ristorante si forse non mi ricordo se era l'ultimo comunque a uno degli ultimi incontri abbiamo dovuto prenotare il ristorante quindi se siete intenzionati a venire iniziate a mettere qui un commento non dico fissando la vostra partecipazione perché non è che faremo elenchi però almeno per avere un'idea più o meno di quante saremo per orientarci nella scelta appunto del luogo in cui mangiare quindi più o meno questo è tutto nel senso che poi gli orari precisi i punti di ritrovo li decideremo più più sotto la data insomma è inutile decidere ora e niente spero che questa cosa vi faccia piacere perché molte mi chiedono spesso ah perché non ci incontriamo di nuovo oppure quelle che ci sono già state dobbiamo rifarlo assolutamente perché comunque sono sempre delle occasioni molto carine per far due chiacchiere per conoscersi e io mi diverto sempre tantissimo e come al solito l'importante è andare a pranzo poi per me possiamo fare quello che volete andare per negozi stare in giro camminare e sederci da qualche parte a chiacchierare e bere un caffè è la stessa cosa se qualcuna preferisce esserci solo alla mattina solo a pranzo solo al pomeriggio è tutto sempre molto molto libero e niente questo è quanto più avanti i dettagli più specifici alla prossima ciao ciao